La matricola Martina FC ospita la capolista 2FA nella gara valevole per la terza giornata della Serie B2 2020-2021, Covid permettendo. Sul green del centro sportivo Monticello in quel di Gruttaglia si sfidano le due compagini con obiettivi differenti. I bianconeri capofila intendono proseguire il cammino fin qui vincente, mentre i bianco-blu della Valle d'Itria sperano in primis di finire la gara in 11 e di portare a casa qualche punto valido per proseguire sulla retta via. A dirigere le operazioni con la consueta autorevolezza il signor Mimmo Ligorio della sezione Asi di Taranto. Ed ora gli highlights della gara. Partono all'arrembaggio i bianconeri della 2FA che già al secondo minuto si fanno pericolosi con questa manovra elaborata che porta il capitano Marco Ciaccia alla conclusione della distanza. La mira però non è delle migliori, rivedibile. Calcio d'angolo per gli ospiti. Angelo Vinci non si fide di nessuno e smanaccia il pallone per evitare guai. Su una rimessa laterale della 2FA c'è il break del Martina FC che si porta pericolosamente in area di rigore con Cervellera che serve all'indietro per Zito. Il pallonetto del capitano però si schianta sulla traversa. Ancora il Martina in avanti. Michele Campanella scodella al centro per Palombella. Antonio Tripaldi interviene maldestramente ma è ancora più maldestro l'attaccante martinese al momento del tiro. Occasione sprecata. Mannaggia. Allentano la pressione gli ospiti con questo calcio di punizione di poco alto sulla traversa. Calcio di punizione in versione Missile Cruz che Vinci intercetta ma non trattiene. Coletta si fionda sulla sfera per rimettere al centro dove c'è Mattia Ciaccia che da buona posizione la manda sull'esterno della rete. Corner per il Martina battuto da Carbotti. La palla viene respinta e ritorna sui piedi di numero 10 Biancoblu che la rimette al centro. Gagliulo intercetta ma col braccio e così il signor Ligoglio decreta il calcio di rigore per i padroni di casa. E' lo stesso Carbotti che si presenta sul dischetto per la battuta. Il suo sinistro però è debole e per guida la parata è facile facile. E come cantavano gli 8-8-3? A pochi minuti dall'inizio della ripresa la dura legge del gol prende le fattezze di Marco Ragosta che dopo aver ricevuto palla a centrocampo si porta sulla tre quarti per beffare il povero Vinci con una germinella diabolica e portare così in vantaggio i bianconeri. Accusano al colpo i ragazzi della Valle d'Itria e rischiano grosso due minuti più tardi ancora con una conclusione dalla distanza. Questa volta è Nasole che sfiora la traversa facendo venire una crisi d'ansia a Vinci. Calcio piazzato per il Martina battuto da Tommaso Leserri. Guida blocca con tutta tranquillità. Grosso rischio per il Martina sempre ad opera di Ragosta che come un frecciarossa di ultima generazione si lancia a tutta velocità sulla corsia di destra. Il suo traversone raso terra viene però intercettato da Vinci che toglie le castagne dal fuoco ai suoi. L'ultima occasione della partita è sui piedi di Rabotti che impegna guida con questo calcio di punizione. Arriva così la terza vittoria consecutiva per la capolista 2FA ma il Martina ha sicuramente molto da recriminare per la traversa e il rigore non trasformato. Per il duo con Rabotti e Vinci si prevede una settimana di passione.